Era una discarica. Ho passato la mia infanzia e parte della giovinezza nello sfascia carrozze di mio padre. Era una discarica di auto rubate, di gomme, di tubi rugginosi, di tutto rotto. Crescendo mi sono chiesto se mi reincarnerò come serpente o uccello o con molta sfortuna come mio padre. Poi ho studiato e studiato. La cultura è stata la mia amabile concubina e anche adesso che sono vecchio leggo e scrivo e leggo. Ma ancora mi chiedo se avrò la sfortuna di tornare come mio padre. Commento. Invece godrai la fortuna di avere avuto un padre che, in questa vita, non poteva essere un padre migliore per te. Grazie. 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 Grazie.